Un incontro positivo che ha avuto il merito di far ripartire il dialogo tra governo e regioni è l'esito della riunione a Palazzo Chigi tra il Premier Letta e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni. Molti punti all'ordine del giorno, sanità, trasporto pubblico, patto di stabilità e riforme costituzionali. Nonostante la complessità dei temi, il governo ha ribadito la volontà di coinvolgere le regioni in un dialogo concreto. Gli impegni sono tantissimi, i temi fanno tremare le vene ai polsi. Si inizierà con la riforma costituzionale e quindi noi dovremo essere pronti per interloquire. Questo ci ha chiesto il Presidente del Consiglio. La governance, il rapporto tra regioni e Stato riprende l'ena e questo sarà il tavolo permanente che si è deciso di istituire e che ci consentirà di realizzare una forte collaborazione tra le istituzioni con grande responsabilità che è quello che i cittadini si attendono. Ma è sui temi economici che si gioca la partita più complicata. La chiusura della procedura europea per deficit eccessivo, ha detto Letta e governatori, avrà impatto solo sul bilancio 2014. Quindi nessun allentamento del patto di stabilità. Non credo che ci siano le condizioni finanziarie per poter correggere le impostazioni di bilancio che fin qui sono state date. Speriamo che l'uscita dalla procedura di infrazione ci consenta di avere un allentamento dei vincoli, ma credo che sarà molto difficile.